Cittadinanza attiva è un'espressione chiave. Una maggiore educazione civica, cioè di quel civis che è in ciascuno di noi, il cittadino, può fare moltissimo nel disegnare il futuro dei nostri figli e del nostro pianeta. Nel contenere la nostra impronta ecologica, un esempio su tutti, noi italiani siamo i primi in Europa per consumo pro capite di acqua, 220 litri al giorno, pensiamoci quando lasciamo scorrere senza cura l'acqua nei nostri lavandini, oppure nell'essere pronti a ricordare sempre di sapere e di non sapere mai abbastanza, come ci insegnava Socrate. Nel PNRR c'è scritto che entro il 2025 almeno il 70% dei cittadini tra i 16 e i 74 anni dovrà avere conoscenze digitali di base, è un messaggio forte e chiaro, dobbiamo essere tutti più digitali. Ma ancora di più, secondo i programmi europei, entro il 2030, che è come dire dopo domani, la popolazione adulta sarà chiamata a un programma di formazione continua di due settimane all'anno. cioè torneremo tutti idealmente sui banchi di scuola ogni anno. Guardiamo anche a quello che sta succedendo al mondo del lavoro. Molti dei lavori di oggi, specie quelli più ripetitivi, probabilmente non esisteranno più, saranno sostituiti da robot e da intelligenza artificiale. E chi non attiva il cittadino che è dentro di lui, studiando o aggiornandosi, non resta indietro, è fuori. Ecco il mio augurio, lasciare la propria impronta, piccola o grande che sia, nella nostra res pubblica, non a caso chiamata così dai romani. Una comunità che è fondata sul complesso insieme di relazioni dove la reciprocità e il mantenimento dell'equilibrio è riposto nelle sapienti mani di chi governa e di chi ci rappresenta. Non certo solo con un diplos in mano o un elegante feluca sul capo, ma di colui che ha la capacità di far convergere l'interesse nazionale e con quello internazionale e ha la capacità di rendere proattiva ogni forma di competizione e trasformandola in cooperazione. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata.